Sono Alex Diana, ho 28 anni. Io amo i soldi. Li amo proprio in maniera incondizionata. Sono collezionista di orologi. Oggi io vendo diamanti a livello internazionale. Sto cercando l'anima gemella che farà fatica. Il mio obiettivo è prendermi tutto. La mia vita è 13 anni, piena di soddisfazioni. Piena! Riccanza 2, Prima TV. Da martedì 28 novembre alle 22.50 in esclusiva su MTV. Grazie a tutti.